Il Comune di Gela deve acquisire tre importanti strutture realizzate in città dall'ex provincia di Caltanissetta. Si tratta del Paralivatino, del Cartodromo e del Parco di Montelungo. La richiesta è stata avanzata al Sindaco Domenico Mersinese e al Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Cia dalla Segretario degli Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Gaeta Nominardi. Le strutture sono abbandonate a se stesse dunque, quale migliore occasione per il Governo cittadino appropriarsene e renderle fruibili? Noi abbiamo ritenuto opportuno inviare una lettera al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e anche ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, gruppi politici, per chiedere al Sindaco di attivare tutte quelle procedure relative all'acquisizione del Cartodromo, Palazzetto dello Sport e il Parco di Montelungo. Riteniamo che sia importantissimo per il nostro territorio che ormai versa in condizioni pietose, economicamente parlando, di attivare questa procedura perché queste tre strutture potrebbero essere un rilancio anche per l'economia, che purtroppo l'economia nostra è disastrata. Quindi facciamo appello alla sensibilità del Sindaco e speriamo che si faccia sentire e che si attivi subito perché potrebbe essere un'occasione da non perdere. E' indispensabile creare strutture per valorizzare il territorio, continua Minardi, o in questo caso rendere utilizzabili quelle che ci sono. Il Cartodromo, il Palalivatino e il Parco di Montelungo rappresenterebbero poli di attrazione per numerosi cittadini e non solo. Ci permettiamo anche di stimolare l'amministrazione comunale, il Sindaco e i consiglieri comunali tutti ad attivarsi in favore del territorio perché non ci possiamo continuare a perdere con tutti questi cambi di sensi di marcia. Vediamo di cambiarlo veramente il senso di marcia a Gela, cercando di attivarsi per fare qualcosa per il nostro territorio, qualcosa di attivo per il nostro territorio. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, dice la sua anche in merito alla vicenda raffineria. Noi non ci abbiamo mai creduto come partito politico che in questa riconversione o quella riconversione della raffineria poteva essere la panacea di tutti i mali per l'economia di Gela. Infatti siamo ancora qua ad attendere le assunzioni, siamo qua ad attendere che l'Eni tramite questa operazione rilanci il territorio. Io sono qua e siamo solidari con colori quali hanno perso il posto e con quelli dell'indotto perché così facendo Gela, l'abbiamo detto in varie occasioni, è destinata allo spopolamento. Gela, l'abbiamo detto.